Tu vuoi viaggi? Sì. Hai tre viaggi all'anno. Marzo, luglio e novembre-dicembre. A marzo siamo andati... Chi fa partecipare ai tuoi viaggi? Si va sul sito 13lune.it 13 con il numero. Scritto al numero. E si trova in alto a sinistra nella barra Viaggio in Messico. In questo momento non c'è ancora scritto niente. Il viaggio di marzo l'abbiamo fatto, quello di luglio no, perché io chiedo che si formi un gruppo di almeno 7 per una questione energetica, ma anche per una questione economica. Cioè il gruppo di poche persone divide tutte le spese in meno persone e paga di più. L'anno scorso, a marzo eravamo 16, il gruppo se l'è cavata con una spesa bassissima. A marzo, quello di marzo, è il viaggio che entra sempre, si forma sempre il gruppo di marzo. Perché andiamo a prenderci le due benedizioni di luce dell'equinozio, il 21 marzo, all'alba a Zibil Chaltun e prima del tramonto a Cicinizza. Prendersi le benedizioni di luce dell'equinozio è una di quelle robe che per la mente condizionata occidentale è... Se ti prendi la benedizione di luce il giorno dell'equinozio... I nativi vanno là, si pigliano tutto, perché quella è la luce del giorno in cui luce e giorno sono uguali. In Perugli inizia il calendario nel giorno del solstizio, in questo caso. Quindi il viaggio di marzo è quello che entra sempre, perché chi ha un interesse verso questi argomenti, diciamo così, spirituali, esoterici, che poi comunque esoterici, c'è un altro trucco, perché esoterico significa che per pochi... Ma quando mai? Ma quando mai? Queste informazioni sono per tutti. Quello di luglio, che quest'anno non è entrato, è il più breve, perché non scendiamo a sud. Io non voglio andare nel sud del Messico d'estate, perché è stagione delle piogge. E come niente gira a uragano. Visto che c'è stato l'uragano il mese scorso a Tulumi. Dici, beh, perché Antonio non vuole andare? Noi ad agosto siamo liberi, possiamo venire, ti formiamo il gruppo. Sì. E se arriva l'uragano? E se arriva l'uragano perdi l'aereo, perdi l'hotel, perdi tutto. C'è l'autista che mi dice, no, quando è stagione delle piogge? Non riesci neanche più a vedere qual è la strada, perché è tutto fango. Devi andare a memoria, evitare gli alberi. Allora, a luglio rimaniamo a nord, cioè nella zona di città del Messico. È il più breve, è il più economico e non vediamo cose maia. Le cose maia sono più a sud. E quell'altro? È novembre-dicembre, è il più lungo. Fine novembre-inizio dicembre. Perché andiamo anche in Belize, Guatemala e Honduras. Lì è completo maia. Cioè tutto quello che avresti sempre voluto sapere e non hai mai usato chiedere sui maia, novembre-dicembre. Ci facciamo tutti i siti, cioè tutti, tutti, ma manco se vai venti volte te li fai tutti. Però i più importanti. Sono straordinari i siti del Guatemala e dell'Honduras. È vero che sono nazioni più povere, in cui i trasporti, i servizi, la viabilità hanno standard un po' più bassi dei nostri. Però comunque è tutto studiato. Sappiamo come fare per evitare le zone problematiche. E d'altra parte, fra Guatemala e Honduras, stiamo soltanto quattro giorni. Il resto del tempo stiamo in Messico. Però lì dobbiamo prendere due voli internazionali. Anche a marzo prendiamo due voli. Però sono interni in Messico. 50 euro ciascuno. E il volo internazionale, invece, per andare a Città del Guatemala, a Ticale, costa di più. Quindi quello di novembre e dicembre è il più lungo e più costoso. Anche se è il più completo. Quello di luglio è il più corto e più economico. Però non vedi niente dei Maya. E quello di marzo è quello che mi sento di consigliare a chi ha degli interessi spirituali, esoterici. Poi incontriamo gli anziani. Tu hai visto un altro mondo. Purtroppo Alberto Rusbuenfila ha lasciato il corpo pochi mesi fa. Però è ancora in ottima salute Don Luisma. Quello lì con i capelli bianchi che parla con quella forza. La transformazione già si sta cominciando. Ci siamo in l'abbore di un nuovo despertare di nostra conoscenza. Ci siamo dirigiti a un luogo nel quadrante del espacio, nel cosmo, dove ci siamo ricevendo una energia inusuale. Quindi questa energia che ci siamo ricevendo, indudablemente, che ci va interconectare la memoria, e quindi il hombre sarà più umano. Che è essere più umano? È essere più responsabile di sì. Al essere responsabile di sì, quindi la parola inlagge. La parola inlagge, in sua forma literal, significa, Eres mi semejante, Eres mi igual. Io soy tu, tu, soy yo. El lado teologico quiere decir paz. E noi lo incontriamo ogni anno. Lui ci fa l'onore di riceverci, accompagnarci in uno dei siti maya dell'area e fare cerimonia insieme a noi. E lui mi ringrazia, mi mette in un imbarazzo. Mi ringrazia perché dice io sono un dinosauro vivente, sono l'unico sacerdote mai riconosciuto dall'UNESCO, ma ormai ho compiuto 82 anni. Guarda che per un nativo di quell'area lì, 82 anni, è già un poco meno di un miracolo. L'aspettativa di vita di un nativo lì è molto più bassa. Lui mi ringrazia perché così può tornare a fare cerimonia con un cerchio di gente che viene da lontano apposta per quello e mi dice i siti cerimoniali, i centri cerimoniali vivono delle cerimonie che ci fanno. E tu vai lì, accendi un incenso, fai un canto, una danza, tieni una cerimonia. Lo spirito del luogo si fortifica. Quando poi il luogo, la giungla se lo riprende, nessuno va più là a fare cerimonia, nessuno va più ad accendere un incenso, a fare una danza, un canto, lo spirito svanisce fino a diventare invisibile. E lui dice che noi, nel nostro piccolo, lo aiutiamo a tenere vivo lo spirito dei luoghi. C'è anche un altro concetto straordinario, completamente strano alla nostra consapevolezza. la scelta del luogo dove erigere un tempio, una piramide, una piattaforma, veniva fatta in base alla convergenza delle linee energetiche, quelle che gli aborigeni chiamano le linee dei tanti, o che in inglese si chiamano le ley lines. e loro erigevano lì le loro costruzioni e così facendo praticavano, e quelli che lo fanno ancora praticano ancora, l'agopuntura della grande madre. Quelli sono i punti, i centri energetici del corpo della madre e tu li vai a stimolare con una menina, un tempio, una piattaforma, una piramide. Così facendo, l'energia del luogo si amplifica e dunque loro avevano queste conoscenze straordinarie dei punti in cui si incontrano le linee energetiche della terra ed era quello che determinava dove doveva notare. Sai che la bandiera del Messico è uguale alla bandiera italiana bianca, rossa e verde. L'unica differenza è che nel campo bianco centrale c'è questo disegno del cactus con l'aquila che appollaiata sul cactus se magna er serpente. Perché? Gli Astechi avevano la profezia che avrebbero dovuto fermarsi e fondare la loro capitale dove avessero incontrato il cactus l'aquila che divorava il serpente. La trovarono dove oggi c'è città del Messico e fu lì che edificarono quel prodigio. Quando andarono gli spagnoli e scrissero al re Carlo V di Spagna dice nemmeno Venezia è bella quanto Tenochtitlano si chiamava a tempo. Canali piramidi era una metropoli che non aveva nulla da invidiare alle metropoli occidentali. A noi ci raccontano che erano quattro sfigati che non sapevano manco tagliare il ferro che non conoscevano la ruota ma ci vuole un coraggio guarda non conoscevano la ruota di che non la usavano abbiamo trovato i giocattoli con le ruote non usavano la ruota né la ratra questo ha indotto gli archeologi a declassare la civiltà maia a rango inferiore perché se non hai la ruota non hai la ratra cioè sei proprio un poveretto ci è voluto arguellirsi il mio maestro per fare una domanda tanto semplice quanto tremenda scusate ma che cosa se ne farà mai del carro con le ruote o dell'aratro una civiltà o un popolo che non dispone di animali da traire noi parliamo bene ruota uguale civiltà aratro uguale progetto perché qua siamo pieni di gente che lo tira quel carro e buoi e vacche e asini e cavalli e muli e bardotti e bufali lì quando videro i cavalli la prima volta se ne scappavano terrorizzati erano convinti che cavaliere e cavallo fossero una sola cosa fuggivano via terrorizzati non ce ne hanno lì non ce ne so l'unico quadrupede di grandi dimensioni è il cervo allora già è un miracolo se tu già è un miracolo se lo vedi il cervo cacciare il cervo è il sogno di ogni cacciatore tu conosci un cacciatore chiedi ma qual è l'animale che sarebbe il tuo orgoglio che è il tuo orgoglio di cacciatore matematico ti risponde il cervo perché perché il cervo non ha abitudini e lo spiega Don Juan a Castaneda lo sciamano all'apprendista non dorme mai due notti di seguito nella stessa tana non si abbeverà mai due volte di seguito allo stesso punto del fiume quindi quindi se tu sei cacciatore vuoi cacciare il cervo vabbè intanto allenati a cacciare tutti gli altri quando sei riuscito a cacciare tutti gli altri puoi provare a cacciare il cervo dovrai stare sotto vento naturalmente perché sennò il cervo ti sente dovrai osservare le sue abitudini ma lui non ha abitudini cambia sempre e tutto questo per stabilire il punto preciso del continuum spazio-temporale nel quale tendere l'agguato questa è la specialità del guerriero tendere l'agguato il guerriero sa quando nascondersi il guerriero sa quando apparire il guerriero sa il guerriero sa